e per tutti ragazzi e ragazzi questo video durerà pochissimo perchè sentire la parla a questa voce e quindi ho trovato spike faremo una sola partita e poi stop io do a concludere qui e poi non lo carico appunto al giorno uno insensato, uno un po' di più e lo fideremo e poi 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 e poi